Il centro-sinistra è un cantiere senza data di fine lavori e per capire se il campo largo avrà o non futuro tocca passare da Bari è percorrere la manciata di chilometri che separa il parlamentino regionale pugliese dal Palazzo del Comune. Il presidente della regione Michele Emiliano ha assicurato alla segretaria nazionale PD Elislein che non si limiterà a riaffidare le deleghe in giunta lasciate da Rosa Barone e Anita Mauro di Noia e se l'impasto dovrà essere, i primi a rimetterci potrebbero essere due ex azzurri come l'assessore al personale Gianni Stea e il collega alla salute Rocco Palese che a sua volta potrebbe rientrare nell'organigramma in un ruolo tecnico, magari in dipartimento e la regola peraltro potrebbe non valere per tutti gli ex visto che non si parla di avvicendamento per l'ex fan prodigi della destra leccese Alessandro Dell'Inoci. Gli innesti invece potrebbero arrivare dal PD che deve anche trovare un nuovo capogruppo dopo il passo indietro di Filippo Caracciolo potrebbero fare il grande salto Lucia Parchitelli appena eletta presidente della commissione lavoro oppure Deborah Ciliento e resta da capire quale forma avrà e soprattutto in quali mani finirà l'assessorato alla legalità chiesto da Giuseppe Conte a garanzia del cambio di passo difficile un ripescaggio di Pierluigi Lopalco il cui addio a quei banchi fu burrascoso mentre potrebbero salire le quotazioni dei centristi di azione che sono già interni al consiglio se esterno di lusso dovrà essere invece a sinistra vorrebbero Angela Barbanente vicepresidente ai tempi di Nichi Vendola tutte supposizioni nei prossimi giorni però si riunirà la maggioranza per allora anche la trattativa sul candidato al sindaco del capoluogo potrebbe essere chiusa rasserenandone un po' con gli animi